E' stata di nuovo la Toscana a ospitare il Festival della Salute, giunto quest'anno all'undicesima edizione. Tre giorni intensi e partecipati tra i colonnati e le fontane Liberti delle Terme Tettuccio di Montecatini Terme, che per la terza volta è stata la sede scelta dagli organizzatori dell'evento inaugurato dall'assessore al diritto alla salute della Regione Toscana, Stefania Saccardi, dal sindaco di Montecatini, Giuseppe Bellandi e dal presidente della Società della Salute della Valdinievole, Riccardo Franchi. La Regione Toscana ha allestito per l'occasione un proprio stand. Tema centrale dell'edizione 2018, la prevenzione declinata in tutte le sue forme. Oltre 100 eventi tra convegni, workshop e laboratori. La carta vincente, il connubio tra sociale, salute e sport. Un evento bello perché appunto lavora e si incensa sul tema della salute, che è altra cosa dalla sanità, è un concetto molto più vasto rispetto a quella della sanità e che abbraccia tutta una serie di concetti che vanno dalla prevenzione, dai corretti stili di vita, dalla corretta alimentazione, dalla necessità di fare movimento, da tutta una serie cioè di comportamenti che producono salute. La sanità è solo un 20% del tema più vasto della salute e riguarda anche le condizioni dell'ambiente, le condizioni socio-economiche di un paese, quindi è bello che oggi qui a Montecatini, in un posto splendido come le terme di Montecatini, si discuta invece di salute a tutto tondo. Ampio spazio ai ragazzi delle scuole, protagonisti di una serie di incontri e dibattiti. Tantissimi piccoli alunni che si sono cimentati nella realizzazione di esperimenti con terra e piante per capire come funziona l'orto, piccolo mondo in miniatura in cui l'azione della natura si tocca con mano, spiegato con linguaggio semplice e accessibile in un incontro curato dalla regione toscana, perché anche lì si costruisce la salute. La salute si comincia a costruire fin da bambini, diffondere i concetti nelle scuole, cominciare ad educare nelle scuole al rispetto di un stile di vita, del proprio corpo, ad ascoltare e a porre attenzione anche al proprio corpo diventa un elemento fondamentale che deve giusto che parta dalle scuole. Le scuole sono un veicolo educativo straordinario nei confronti dei bambini e quindi credo che sia giusto che il Festival della Salute coinvolga primariamente le scuole in questa attività. Tra un bicchiere e l'altro della pregiata acqua che sgorga dalle cannelle del tettuccio, grande spazio, lo ha avuto l'alimentazione corretta, associata allo sport e ai corretti stili di vita, di cui i ragazzi delle scuole hanno avuto modo di parlare insieme a illustri rappresentanti e campioni del mondo sportivo e a esperti del settore. E di cibo sano si è parlato anche nel dibattito sulla dieta mediterranea, curato dal Dipartimento di Prevenzione della ASLA Toscana Centro. E nel corso dell'evento, gli istituti alberghieri e agrari per la salute, i futuri professionisti del mangiare buono e sano, curato dalle ASLA della Regione Toscana, con docenti e studenti che hanno dato prova delle conoscenze acquisite a scuola. La Toscana è terra di qualità nel cibo, siamo una terra famosa anche per la qualità e il livello del buon cibo che esprimiamo in questa regione. E coinvolgere gli istituti agrari, gli istituti alberghieri vuol dire educare al fatto che anche il mangiare, anche l'alimentazione, ciò che si mangia e come si mangia ha un impatto importante sulla nostra salute. Lo ha in una fase preventiva, lo ha anche quando si parla di persone che hanno avuto interventi importanti e che devono mantenere un corretto stile di vita proprio per migliorare la loro condizione di salute anche dopo un intervento sanitario. Quindi è importante far passare questo concetto che non è solo di rilievo il lavoro, l'aspetto del cibo che si diffonde, ma la qualità, il fatto come il cibo si produce, come si allevano gli animali, quali sono gli animali migliori da mangiare, in quali quantità. Allo stand della regione toscana non solo informazioni, ma una vera postazione pensata per attivare la tessera sanitaria elettronica e per capire come funziona il fascicolo sanitario che raccoglie la storia clinica di ciascun cittadino. Accedere è semplice, si può fare da computer, dalla app creata apposta per i cellulari, oppure dai totem.si sparsi nei distretti sanitari e negli ospedali. Ce ne sono già 200. Basta selezionare il servizio che si desidera, inserire la tessera sanitaria, digitare il PIN. Si va dall'accesso diretto alle prescrizioni elettroniche fino agli esami medici, tutto nel rispetto della privacy. Sarà sicuramente uno strumento di grande aiuto per i cittadini una volta che impareranno ad utilizzarlo, perché lì troveranno tutte le notizie che riguardano la loro salute, potranno scaricare i referti, potranno eseguire prenotazioni, avranno tutto ciò che riguarda la loro condizione di salute. Abbiamo fatto un lavoro importante per migliorare il fascicolo sanitario elettronico e adesso partiremo con una campagna di comunicazione per diffonderne l'utilizzo tra tutti. Qui sarà possibile attivarlo, avere tutte le informazioni del caso e crediamo che sia uno strumento oggi, ai tempi nell'era digitale, uno strumento importante per il cittadino proprio per avere accesso più rapido e più funzionale anche ai servizi sanitari. E poi tutto quello che c'è da sapere sulle campagne di comunicazione dell'assessorato alla salute, da quelle di prevenzione dell'ictus agli screening oncologici fino al capitolo vaccini. In una situazione generale nella quale abbiamo ascoltato sui vaccini di tutto di più, abbiamo letto le posizioni più varie nel governo, la regione toscana ha dato dimostrazione di dire con chiarezza, di aver sempre detto con chiarezza da che parte sta. Noi stiamo dalla parte della scienza, non dalla parte delle fake news, non dalla parte di chi racconta che i vaccini sono una cosa negativa. Noi abbiamo detto con chiarezza che nella nostra regione i vaccini sono un elemento di salute per chi li fa e anche per il contesto complessivo. Ci siamo assunti la responsabilità anche di fare una legge che nel caso in cui la legge nazionale venisse cambiata ci mette la nostra regione invece in condizione di continuare ad investire sul valore della vaccinazione. Nel corso del festival si è parlato anche con gli esperti delle asle toscane di affettività e sessualità, di come affrontare le sfide della vita quotidiana, ascoltando il proprio corpo per promuovere salute e benessere a ogni età, anche con esercizi fisici mirati. E come nella precedente edizione del festival della salute, che ha toccato quota 50.000 visitatori, in tanti hanno approfittato delle 25 associazioni scientifiche che ai rispettivi stand davanti all'ingresso delle Terme Tettuccio hanno offerto consulenze gratuite ai visitatori, che hanno anche avuto modo di vedere da vicino i mezzi di soccorso che quotidianamente sono al lavoro sul territorio regionale, pronti a partire per qualsiasi destinazione in cui si verifichi un'emergenza, perché anche così si tutelano salute e benessere sociale.